Archie, Totaro, Crimi, Casellato, Cronbichler, ok. Altri? Sì. Ok. Non è in Venizia, l'aspettiamo? Sì. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 343, votanti 328, astenuti 5, maggioranza 170, fallo di 314, contrarie 24, la Camera approva. Siamo all'articolo 6, anche qui ho pareggio dei pareri, ma comunque mi pare di capire che il parere è contrario da parte del relatore. Il Governo? Conforme 6.1, Grimoldi, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Carrozza, Giuliani, Fitzgerald, Carloni, Frusone, Palmieri, Pesco, Spadoni. Chi altro non riesce a votare? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 354, votanti 295, astenuti 59, maggioranza 148, fallo di 41, contrarie 254, la Camera respinge. A questo punto votiamo l'articolo 6, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Bene, D'Agostino. Ci siamo? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 352, votanti 347, astenuti 5, maggioranza 174.